Dietro le tue operazioni, dietro le tue posizioni di trading, eventi globali stanno muovendo le economie di tutto il mondo, creando opportunità di trading. È per questo che ti offriamo tutto un mondo. Un mondo di ricerche e commenti sui mercati, di dati economici globali e di visualizzare il posizionamento operativo dei trader. Un mondo dove ogni funzionalità della nostra piattaforma Next Generation è stata disegnata per aiutarti nella tua operatività, per offrirti un'esperienza di trading senza eguali. CMC Markets. Prendi una posizione di vantaggio. Grazie.